Fili elettrici scoperti, porte e termosifoni rotti, perdite d'acqua e bagni guasti. Sono solo alcune delle criticità che il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, denuncia alla stampa con un dettagliato reportage fotografico che vi mostriamo a corredo del nostro servizio. Problemi strutturali e non solo che riguardano il distretto sanitario di Pescara Sud in via Rieti, per il quale il vicepresidente del Consiglio regionale chiede l'immediato intervento del governo regionale in carica. Parliamo del distretto sanitario di basi Pescara Sud, che è il più importante di Pescara perché abbraccia 70.000 utenti. Un distretto che insiste in un edificio di proprietà privata, dove l'AS deve pagare l'affitto. Un affitto importante, nonostante c'è un distretto di proprietà pubblica realizzato in via Riosparto, lasciato così ancora in abbandono non attivato. Quindi quello che io chiedo è il trasferimento immediato da via Rieti a via Riosparto, dove possiamo risparmiare l'affitto e non solo, portare le strutture in un edificio adeguato. Qui l'edificio è fatiscente, abbiamo fatto l'ennesima visa ispettiva questa mattina, abbiamo visto fili volanti dappertutto, muri scrostati, termosifoni scrostati, infiltrazioni d'acqua. Abbiamo detto i fili volanti, ma non solo le stanze anguste. E poi la cosa che mi preoccupa di più è che mancano le apparecchiature tecnologicamente avanzate. Gli ecografi ce ne sono due, uno vecchio e uno vecchissimo. L'ecografo è l'elemento di base, come dico io, come la pala per un muratore. Avere un ecografo vecchio di 15 anni, 20 anni, significa anche fare diagnosi non proprio così come averne uno nuovo di zecca. Non solo, l'endocrinologia e la diabetologia è stata trasferita inspiegabilmente dall'ospedale di Pescara al distretto di via Rieti, messo al quarto piano. No, qui c'è un problema serio perché ci sono tanti anziani, tanti disabili, che vengono qui, non trovano il parcheggio, devono parcheggiare all'area di risulta, venire a piedi in inverno, salire al quarto piano con un piccolo ascensore. Quindi potete capire anche i problemi. Manca la digitalizzazione territoriale, significa che lo specialista non riesce a interrogare il fascicolo sanitario elettronico del paziente quando viene dimesso dall'ospedale, quindi anche lì si compromette una diagnosi e una cura. Via Pesaro, medicina dello sport di via Pesaro, gli operatori sono completamente al freddo, senza riscaldamento. Allora, ecco, tutto questo cosa comporta poi? Che, inevitabilmente, i cittadini si riversano sull'ospedale di Pescara, mandando al collasso reparti e pronto soccorso. Io chiedo con forza al centrodestra, questo è il più grande fallimento del governo regionale a guida centrodestra, di potenziare la medicina territoriale e potenziare gli ospedali minori, perché facendo funzionare i distretti e la medicina territoriale evitiamo tutti gli accessi non propriati che vanno in pronto soccorso e in ospedale.